Un iter lungo poco meno di un anno per dare vita a una legge regionale che fornisse un nuovo ordinamento alla polizia locale. A dicembre scorso, con il varo della legge regionale 37 2011, la Puglia, da essere agli ultimi posti, ora si trova sicuramente ai primi, ha sottolineato in conferenza stampa il comandante della Polizia Municipale di Bari, Stefano Donati. Anche perché non si tratta di un ordinamento che riguarda solo la Polizia Municipale. Una legge che ha avuto nell'assessore regionale al Sud e federalismo Marida Dentamaro un artefice di primo piano. Una legge che per esempio fra le funzioni della Polizia Locale pone anche quello di vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi. Il comandante Donati ha contato ben 32 istituti giuridici modificati rispetto alla precedente normativa e ha invocato più in generale una ristrutturazione dell'apparato pubblico. Inoltre ha colto l'occasione per chiedere al capo di gabinetto della funzione pubblica Roberto Garofoli una mappa di quanti lavorano nell'apparato pubblico che comunque siano ad esso connessi. Garofoli ha avuto parole di elogio per la nuova legge regionale anche perché pone attenzione a temi che riguardano l'intero apparato pubblico. Per esempio l'articolo 9 relativo ai rapporti fra politica e vertici della Polizia Locale fa luce su quella che è la separazione delle funzioni e l'articolo 10 sulle modalità di selezione dei vertici della Polizia Locale fornisce elementi utili per i criteri di selezione della dirigenza amministrativa più in generale. Insomma una buona legislazione regionale che fornisce spunti anche per un riordino complessivo della pubblica amministrazione.